1 contro 1 di Adriano, cerca un barco, lo trova, è pronto al traversone, eccolo il cross, colpo di Danco di Ibra! Imovic! Lo Scorpione! 1-0! Pazzesco gol di Ibra Imovic, ragazzi che spettacolo! Bellissimo gol di Slotani Ibra Imovic! Sul plus, poi il tocco delizioso ancora per Manzini, arriva al traversone, fallo di mano di Volpi. Il guardarine va e va verso il calcio di rigore. Però qua prima tocca al piede. Adriano pronto a battere il calcio di rigore. Adriano! 2-0, non segnava dal 28-3 contro la Regina. Arriva il traversone a cercare l'inserimento di Moras! Vangelis, Moras! 2-1, papera difensiva tra Sanetti e Cordoba. Incredibile!